Se l'evaporazione avviene dalle superfici liquide, la superficie non ha nessuna limitazione all'evaporazione, l'acqua è sempre disponibile, sopra la superficie liquida possiamo pensare vi sia il vapore alla tensione di vapore, e quindi siamo in grado di determinare per esempio quel primo termine nell'equazione di Dalton e siamo in grado di prevedere l'evaporazione se misuriamo per esempio l'umidità specifica nell'aria. Chiuso il problema. Nel caso dei suoli la situazione è un po' più complessa. Questo per esempio è un suolo relativamente desertico. in cui ci sono degli arbusti, come vedete, è appena piovuto, ci sono delle pozzanghere, il suolo è completamente saturo. In queste condizioni l'evaporazione procede come se l'acqua fosse su una superficie liquida, cioè in prossimità del suolo la tensione di vapore è prossima a quella, cioè l'umidità specifica del vapore è prossima alla tensione di vapore, o è la tensione di vapore, si può usare questa semplificazione per considerare l'evaporazione. Cosa succede quando però il suolo si secca? Quando il suolo si secca, man mano, anzi, quando il suolo si secca, per un certo tempo si secca senza che ci siano sostanziali variazioni nella quantità di aria evaporata dal suolo. E questa si chiama evaporazione al primo stadio. Man mano che si si... ad un certo punto, superato un certo livello critico, tuttavia, l'evaporazione diminuisce, comincia a diminuire bruscamente, praticamente in modo esponenziale. Ed è quando si innesca quello che si chiama evaporazione del secondo stadio. Rappresentata da... in un grafico, che cosa succede? Vedete, qui in ascisse il tempo, in ordinate la quantità di evaporazione, che cosa succede? Nel suolo, prima dovete pensare che il suolo sia completamente saturo all'inizio, comincia ad avvenire l'evaporazione. L'evaporazione è sostenuta... Beh, prima vengono evaporati i pori più grandi. Abbiamo imparato bene che cosa sono i pori dei suoli, trattando appunto il motto dell'acqua nei suoli. Prima avviene dai pori più grandi, poi vi avvia dai pori più piccoli in maniera selettiva. Man mano che i pori più grandi sono... Lo svuotamento dei pori più grandi avviene in due modi. Uno per evaporazione diretta dai pori più grandi. L'altro perché l'acqua dai pori più grandi viene succhiata dai pori più piccoli, che nel frattempo cominciano anche loro ad evaporare verso la superficie. Fintanto che il livello dell'acqua, come vedete rappresentato in questo cilindro a sinistra, rimane sufficientemente vicino alla superficie del suolo, l'acqua nello stato saturo, o quasi saturo, è in grado di fornire acqua liquida fino alla superficie del suolo, lungo i pori via via più piccoli. Finché la fase liquida è continua fino alla superficie e anche in maniera relativamente consistente, avviene l'evaporazione allo stage one. Cioè l'evaporazione rimane praticamente inalterata. Ci sono vari fenomeni che permettono che l'evaporazione rimanga comunque elevata, perché nonostante diminuisca il numero dei pori che sono saturi, che arrivano fino alla superficie man mano che il suolo si secca, aumenta l'efficienza con il quale avviene l'evaporazione. Dopo vediamo una figura in seguito. Quando questa regione intermedia, in cui c'è comunque una continuità tra la parte satura e la superficie, c'è comunque una continuità tra la parte satura e la superficie, avviene appunto, rimane lo stage one. Quando questa continuità avviene meno, cioè non ci sono più pori che arrivano, o pochi pori che arrivano sulla superficie e sono ancora saturi, l'evaporazione, il flusso di evaporazione in superficie è sostenuto solo dal trasporto di vapore attraverso il suolo e in questo caso ha un decadimento molto rilevante, siamo nello stage two. Una immagine pittorica molto più interessante è questa. Qui vedete che il flusso evaporativo avviene attraverso i pori. Verso i pori piccoli converge l'acqua dai pori più grandi che i quali pure evaporano e quindi si ha il flusso di vapore. Man mano che i pori si distanziano, i pori con acqua dentro si distanziano, e l'evaporazione avviene sempre più prima. Prima abbiamo praticamente un piano continuo di evaporazione, ma qui vedete disegnate delle semisfere, praticamente l'evaporazione avviene e può avvenire su una superficie semisferica invece che su un lato diritto e questo fa aumentare in pratica l'evaporazione almeno fino a che le distanze tra i pori emettitori non sono troppo grandi. E quindi questo spiega anche il fatto che rimanga comunque uno stage one evaporation anche quando man mano vengono a mancare dei pori, perché man mano che vengono a mancare pori ciascun poro evapora in modo più efficiente. Il lavoro di Orr e di Lehman & Orr ha portato anche a poter essere in grado di calcolare a quale profondità critica si passa tra evaporazione del primo tipo ed evaporazione del secondo tipo. In pratica, fino a che il livello saturo dell'acqua è minore di una certa profondità, avviene l'evaporazione secondo lo stage one. ulteriormente sotto un certo livello si comincia lo stage two. Questo è dipendente dalla natura dei suoli e lo vediamo anche da questa formula, perché in questa formula compaiono, che è la prima che dà LC in alto, compaiono vari elementi. LG è un valore critico, una lunghezza critica, che dipende da che cosa? Dipende in questo caso dai parametri dei suoli. Dipende, voi vedete, la formula è complessa, ma quello che voi dovete ricordare sono le dipendenze dai parametri alfa ed n, che sono i parametri delle curve di Van Genutten. Vorrà dire che questo LG varia con la tessitura del suolo e in parte forse anche con la struttura del suolo. e potreste anche vedere com'è questa funzione che è descritta. Mentre il denominatore che cosa contiene? Il denominatore contiene il rapporto fra la conducibilità idraulica del suolo dipendente dal contenuto volumetrico e la domanda evaporativa. In questo caso è un po', se vogliamo, un po' tricky si direbbe, un po' un trucco nel senso che ET di Z0 è la domanda evaporativa alla superficie su che cosa? Sulla base dello stato dell'atmosfera. Che cosa sia questa quantità? È facile da capire in un esperimento in cui io controllo la domanda evaporativa, per esempio controllando la temperatura, controllando tutte le condizioni. È un po' più difficile da capire e un po' più difficile da capire che cosa sia in natura, perché questo termine ET con 0 qui sarebbe in qualche modo fissato. Il senso generale di questa formula è che comunque esiste una lunghezza tipica al di sotto del livello superficiale rispetto al quale il suolo non riesce più a fornire acqua liquida in superficie e quindi si passa dallo stato nello stage 1 allo stage 2. Volendo scriverlo in modo opportuno, allora noi potremmo scrivere il bilancio di... Quello che faccio qui, il bilancio di massa nel mio volume di controllo. E dico, il mio... È un bilancio di massa un po' particolare, che magari sul quale poi ritorno dopo con la lavagna bianca. E questo XI che cos'è? È la differenza tra lo stoccaggio S dell'acqua, che è nel mio volume di controllo, meno e lo stoccaggio massimo. È il deficit di acqua. La variazione del mio deficit di acqua, che cosa sarà uguale? Sarà uguale all'acqua che esce, quindi ET più Ranoff, il deflusso superficiale, meno l'acqua che entra, cioè è un po' il contrario rispetto a come siamo abituati a vedere il bilancio di massa. E questa è l'equazione che regolerebbe il bilancio di massa. Cosa succede? Quando XI è maggiore di un certo livello, in particolare è maggiore di LC, allora si passa allo stage 2 dell'evaporazione. Altrimenti si rimane allo stage 1. Quindi questo ET con 0 che compare qui è effettivamente relativamente a questa formula una funzione di XI. In generale l'evaporazione dai suoli, almeno la prima parte di evaporazione dai suoli, non quella dovuta al trasporto al trasporto turbolento, ma quella che genera le condizioni al contorno per il trasporto turbolento, si potrebbe calcolare con questa formula che è stata prodotta appunto da Lehmann e Orr, dove D è un coefficiente di diffusione, anzi è il coefficiente di diffusione del vapore d'acqua nell'atmosfera, che poi è chiamato D-Atman nella seconda formula, θS è la porosità del suolo, θA è il contenuto d'acqua del suolo, Q-star e QZ0 sono l'umidità specifica sulla superficie e Q-star è l'umidità specifica a saturazione. A denominatore c'è Xi, che è questo water deficit e quindi l'evaporazione in questa formula non dipende solo dalla differenza tra specifici umiditi, l'umidità specifica a saturazione e l'umidità realmente presente, ma anche inversamente proporzionale al water deficit. Più alto è il water deficit, più bassa è l'evaporazione dai suoli. E questa quindi sarebbe la nostra formula che ha questo andamento, in questo caso iperbolico, con il contenuto d'acqua, che correla l'evaporazione dai suoli anche al contenuto d'acqua anche al contenuto d'acqua del suolo. Tutti i primi tre termini θA, θS e dA potrebbero essere raggruppati in un coefficiente, chiamiamolo C cappello, per esempio, e allora il numeratore sarebbe uguale alla legge di Dalton, salvo il fatto che qui si tratta per quel che riguarda si tratta di evaporazione all'interno del suolo che produce poi il flusso e quindi l'umidità che si trova alla superficie. Però è anche inversamente proporzionale a Xi e quindi dipende direttamente dal contenuto d'acqua del suolo. Qui il bilancio di evaporazione dipende dal contenuto d'acqua del suolo. Direi che per oggi mi posso fermare qui. ci sono delle domande? Certamente vi ho promesso di spiegare un po' meglio questa formula e lo posso certamente fare allora la formula è De Xi su De T uguale Et0 più R meno P E Xi è uguale a S max meno S e adesso vi condivido il vi condivido lo schermo ok queste sono le due formule normalmente la formula di bilancio di un volume di controllo era un cilindro nel nostro caso di suolo chiamiamo S max quando il cilindro è completamente pieno di acqua evidentemente S max S max in termini adimensionali S max è legato alla porosità e normalmente il mio bilancio dico il mio contenuto d'acqua S nel tempo che cosa è uguale? l'uguale la precipitazione meno l'evaporazione meno il deflusso superficiale se però io so che l'indicatore per il passaggio dello stage 1 allo stage 2 è la profondità alla quale il livello d'acqua arriva quello che posso fare è fare una cosa diversa cioè questo è il nostro S questo è il nostro S quello che posso fare è semplicemente andare a sostituire il posto di S S max meno così questo è uguale a P meno Et con zero meno R dS max su DT non varia perché è il massimo del contenuto quindi quello che rimane è meno DeXI su DT e questo è uguale a meno P più Et con zero più R dove evidentemente R è il deflusso che esce da qua a qua e Et E t zero è la mia evaporazione quindi questa spiega la mia formula perché è cambiato sì dunque sì cioè viene così perché qui avevo già cambiato i segni quindi il segno meno va tolto questo spiega la mia equazione che ho usato prima all'interno delle slide ci sono delle domande se non ci sono domande io direi che abbiamo finito e che possiamo andare a mangiare o a preparare il pranzo arrivederci a tutti e a venerdì a venerdì Grazie.